Yes, 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 oh, ok, sono pronto, sono pronto per fare l'ingresso Funambuli senza il rap non sarebbe lo stesso, questa sera faccio il bravo promesso Gli ospiti sono già arrivati, si sono accomodati, faccio un paio di versi improvvisati, alla mia sinistra abbiamo rosati Come dicevo prima, questa sera sarò bravo, sarò una pecorella, per me questa sera non è Funambuli, per me è un due tre stella, sì, a livello di leggerezza 2015, Funambuli, questa è la terza, sì, fantasia senza confini, ultimo nostro ospite Pro Caccini, benvenuto, buonasera In Grecia avete visto Nuova Era, sì, sì, questa sera parliamo che in Grecia ha vinto la sinistra Funambuli in diretta, non si registra, sì, volevo salutare anche Ingroia, volevo dire vive il rap, tutto il resto è noia Saper iniziare la puntata, anche questa sera tutta questa parte era improvvisata Grazie Valesse, poi ci sarà l'editoriale alla fine, è tutto improvvisato, ascoltati bene la puntata Prima di presentare gli ospiti ho visto una faccia di Gaetano Pecorella molto così E non era praticamente felice di questo rap, forse non se l'aspettava qua Cioè non le piace il genere? No, no, mi piace molto, anzi stavo pensando e stavo ammirando come potesse improvvisare così, trovando le rime Vedrà dopo, che alla fine è stato bravo, poi di solito non sono tutti molto contenti Grazie Val